Mestrino, i vicini del fuoco sono intervenuti alle 4 di questa notte in via 4 novembre per un'automobile con 5 persone a bordo che dopo aver perso il controllo è andata a sbattere contro una protezione antisfondamento a tutela di un negozio. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto e collaborato con il 118 per soccorrere i feriti di cui uno in maniera grave. I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.